Lei ci deve dire, si ricandida o non si ricandida a sindaco di Perugia? Domanda delle mille pistole qui. Io dal primo giorno ho detto che non ci volevo pensare e lì alcuni hanno interpretato come fosse un no. Si interpreta sempre, si interpreta. Ma per quale motivo? Allora, per non interpretare più, il sindaco Romizzi si ricandida o non si ricandida? No, adesso ve lo spiego. Adesso ce lo spiega. Per quale motivo dal primo giorno ho detto che non ci voglio pensare? Per non governare con l'ansia del voto. Perché se si governa con l'ansia del voto, poi si cercano le scorciatoie, si cerca la scelta più facile, quella del consenso e non quella delle cose giuste e anche della prospettiva. Perché poi se uno vuole recuperare terreno, un po' in quello che è il panorama anche nazionale, si deve rimparare a lavorare con un occhio che va un pochino più in là, più lungo. Ciò detto, è chiaro che a me piacerebbe anche perché vi sono tutta una serie di progetti che sono stati avviati ma che avranno dei tempi di gestazione importanti. Non è solamente Fonti Vege, ma anche la città della giudiziaria. Quindi ci sono la stessa mobilità con il Pums, perché poi a seguito del Pums ci saranno... Saranno dei progetti da portare avanti. Ci saranno dei progetti anche molto interessanti. A me piacerebbe e credo che è anche un istinto naturale provare ad accompagnare questi progetti in là. anche consapevole che non è che in un quinquennio si cambia il mondo. Però questa ovviamente sarà poi una scelta. Questa scelta sarà da dover condividere con la famiglia e verificando anche quello ovviamente che è poi l'umore della città. Questo è un aspetto, però c'è anche un altro aspetto che... Allora il sindaco Romizzi si ricandida. Si ricandida. Si ricandida. Mettiamo insieme.